Sono mesi di grande lavoro e di grande novità per il Vivaldi, tra personale amministrativo e personale docente, il 2022 ci porterà 12 nuove assunzioni, quindi nuovi corsi e il potenziamento della struttura. Questo significa, per quanto riguarda i nuovi corsi, che avremo la possibilità di affermarci ancora di più in settori dove già il Vivaldi svolge un ruolo di punta. Faccio un esempio per tutti perché è un tema che mi interessa molto, è della musicoterapia, c'è il rapporto tra musica e salute. Il Vivaldi ha già un ruolo di primo piano a livello nazionale, ma adesso partirà il bienio, il secondo livello dell'offerta di musicoterapia. Questo è qualcosa che significa molto perché è una delle frontiere più importanti, il rapporto tra musica e salute, come lo è il rapporto tra musica e arte, come lo è tante le cose che vengono fatte tutti i giorni al Conservatorio e che sono riportate sul territorio perché il Conservatorio ha un programma intensissimo. Non c'è settimana dove il Conservatorio non faccia qualche cosa per il territorio di Alessandria e della provincia di Alessandria. È chiaro che questa iniezione d'ossigeno che è stata il regalo di fine anno in qualche modo che il Ministero ha fatto a tutta la struttura dell'alta formazione musicale, era attesa da molti anni, finalmente è arrivata e adesso bisogna rimboccarci le maniche. Per il Vivaldi significa naturalmente riuscire anche ad affrontare il problema più grande che è quello di poter disporre di spazi adeguati. Il Conservatorio ha sede in un luogo come Palazzo Cutica che ormai è strettamente intrecciato con la storia musicale di Alessandria, si tratta di riuscire con gradualità ma con determinazione a poter usufruire di tutti quegli spazi possibili proprio qui e in questa sede.